Resta ancora inspiegato l'incidente a un Boeing 747 in fase di decollo della base aerea di Bagram in Afghanistan. Le immagini sono state riprese da un'auto in servizio alla base e mostrano il velivolo che prende quota molto rapidamente per poi precipitare con altrettanta rapidità, forse a causa del forte vento. Morti i sette membri dell'equipaggio, il cargo portava alcuni veicoli militari a Dubai.